Usiamo sconfitti in casa 3 a 2 contro il Delta, partita infinita da analizzare perché comunque loro hanno difeso veramente tanto e hanno contraattaccato in modo molto molto aggressivo, è buono il primo set, siamo partiti molto bene, poi siamo crollati il secondo, il terzo si è andato a riprendere e l'abbiamo vinto e da lì pensavamo di averla in mano la partita invece da lì è nata una battaglia e abbiamo chiuso 21-19 il quinto set. C'è rammarico perché questa è una partita che sicuramente noi dobbiamo portare via dei punti invece di uno, sicuramente due o tre, ci rinvochiamo le maniche e lavoriamo ancora per traguardi migliori.